Allora, com'è accolto? Ha accolto benissimo il gruppo, questo nuovo arrivo? Molto bene, è una ragazza che, vabbè, tecnicamente penso che qualcosa comunque avete visto già con Conegliano e comunque il suo curriculum parla da sé. Poi devo dire che è una ragazza molto grintosa, si è subito inserita nel gruppo, ha voglia di fare, di lavorare, è allegra, è solare, questo sicuramente dà morare anche alla squadra. Una posizione in classifica ottima, però hai detto che l'appetito vi è mangiando. Eh sì, diciamo che ottima, oggi come oggi no, rispetto a tre giorni fa, nel senso che comunque tre giorni fa eravamo quarta e oggi siamo settime, però la classifica è corta, indipendentemente dalle tre che ormai sono comunque volate via, la classifica dal quarto fino all'ottavo comunque siamo tutte lì, quindi bisogna giocarsi partita per partita e speriamo che comunque più avanti inizieremo a prendere più punti possibili. Prossimo turno? Bergamo, partita sicuramente non facile, anche Bergamo sta attraversando un periodo non bellissimo, non sta esprimendo un'ottima palla a volo, quindi sicuramente verrà qui con la voglia di far punti. Noi siamo pronte, abbiamo bisogno anche noi di punti, quindi ce la giocheremo. Grazie.